Ciao ragazzi, mi chiamo Antonogitun99 Questo, come si vede, è Luigi's Mansion 2 E' sempre un gioco per Nintendo 3DS Uscito nel 2013 Capito? Allora, questo gioco, c'è un nuovo protagonista Che è il Professor Strambik Che è come Luigi's Mansion Capito? Allora, qui, in questo gioco, c'è Luigi come protagonista Non c'è Mario C'è Luigi che catturerà i fantasmi Che avrà come un aspirapolvere Che si chiamerà Poltergast 5000 Capito ragazzi? Questo gioco è un po' pauroso Capito? A me non mi fa paura Se avete coraggio, eh Ma anche se non avete coraggio Tanto è solo un gioco, capito? Bene, qui c'è scritto Premi A Come in Super Mario ci sono tre fili I fili sono a forma di finestra File 1, file 2 e file 3 Avete ragazzi? Il mio personale è questo, il file 3 Che sotto sul tag screen potete vedere La luna scura Quanti frammenti avete preso Quanti B Quanti fantasmi nella torre del caos In che livello avete finito E quanto bottino in totale Capito ragazzi? Io devo completare questo Capito? Ho preso solo due frammenti di luna scura Avete capito bene ragazzi? Mi piace questo gioco Se vi fa un po' paura Mettete uno mi piace, capito? E se vi piace Mettete mi piace Ok ragazzi Io vi devo salutare Non vi devo dire altro Vi aspetto nella prossima recensione Con l'inizio degli extra Vi parlerò Delle 5 zone Vi parlerò Inizierò Vi spiegherò la prima zona Inizierò con le video recensioni extra Con la prima zona vi parlerò Capito? Un giorno da 3199 Speriamo che sia piaciuto L'inizio di Luigi's Mansion 2 Ah forse Ho visto che Nel 2019 Uscirà Luigi's Mansion 3 Che forse Se lo comprerò Vi farò vedere Capito? Ok Ciao alla prossima Seguite insieme In una video recensione Ciao